Campioncini, è successa forse la cosa più assurda della storia della Pixelcraft perché qua in fondo non abbiamo solo un Venusaur boss probabilmente sarà anche boss legendario ultimate ed è bellissimo l'animazione è una figata incredibile ma là in fondo abbiamo anche Mega Blastoise Boss Ultimate ma per rendere una cosa incredibilmente epica sarebbe dovuto succedere che anche Charizard Mega sarebbe spawnato così sotto forma di boss e vi dico soltanto che è successo ragazzi abbiamo tutti e tre i Mega Pokémon qua davanti in tre forme boss diverse e non so con quanta probabilità questa cosa potesse accadere ho aspettato un bel po' per registrare questo video all'interno del mondo sono spawnati tre boss e tutti e tre sono le tre Mega Evoluzioni dei primi starter della storia dei Pokémon questa roba è incredibile quindi lasciate un mi piace campioncini benvenuti e bentornati e se c'è qualcuno di voi che è nuovo iscrivetevi al canale ora io parto provando a eliminare Blastoise istantaneamente perché lui è il boss ultimate però ragazzi io voglio provare a collezionare anche la Mega Pietra di Charizard perché io quella forma del Charizard non ce l'ho tecnicamente allora facciamo una cosa però io metto in campo ora Eternatus vado di Toxic così l'avveleno lui ha fatto un bel po' di danno però ora con Eterna Beam dovrei stare più o meno tranquillo anche col fatto che l'ho avvelenato lui mi riattaccherà e mi eliminerà Eternatus no ha missato no ok l'ha fatto però l'ho eliminato per colpa del veleno quindi ora dovrei aver vinto vediamo cosa è una bella Blastoise isite ottimo poi oh no vabbè ragazzi ma oggi cosa sta succedendo ma quanti Mega Pokémon stanno spawnando questo Steelix però nella sua forma boss rara allora come proseguiamo e continuiamo a provare a eliminare tutti quanti boss voglio vedere se prima o poi qualcuno ci regala una Master Ball però l'unica possibilità ora è Venusaur perché poi i boss rari non ci possono dare una Master Ball è un po' un peccato lo so molto bene ragazzi però non possiamo farci assolutamente nulla vai con oltraggio vediamo se riusciamo a fare un bel po' di danno al nostro Venusaur lui mi ha quasi eliminato da Quaza ma io ho eliminato lui mi dà un'altra Master Ball per favore no ah dannazione vabbè l'unica nostra ultima speranza di ottenere almeno delle caramelle rare è da questo Charizard che è solo a livello 105 e noi con i Dropompa dovremmo shottarlo no abbiamo missato un colpo allora Pixelcraft per favore non sto colpendo Kayogre oh ok finalmente l'ho eliminato questa Mega Pietra mi mancava infatti mi ricordavo di questo piccolo dettaglio e dato che abbiamo eliminato un bel po' di Pokémon Mega in questo inizio episodio qual è la vostra Mega Evoluzione preferita? scrivetemela qua sotto nei commenti che vi lascerò un cuoricino ora abbiamo la squadra che è completamente K.O. quindi facciamo una cosa molto logica mettiamo tutti quanti a curare ma non solo perché vi ricordo che dovremmo portare dei Pokémon al 100 noi la nostra squadra tuttora non è completo cioè non tutti i Pokémon sono a livello 100 abbiamo Requaza al 98 gli mancano solo due livelli stessa cosa per l'ultimo entrato in squadra Mewtwo nella sua forma Shadow che è un Pokémon spaziale a livello 98 non abbiamo neanche visto le sue statistiche ma sapevamo che era completo ragazzi questo è un grandissimo Pokémon leggendario ma sappiate che in questo episodio non sarà un Pokémon leggendario a raggiungere il livello 100 ma bensì sarà Tyranitar perché Tyranitar ragazzi? perché voglio dedicare un episodio speciale al livellamento dei Pokémon fino a portarli al livello 100 ma soprattutto dei Pokémon leggendari quindi Tyranitar oggi sarà la nostra piccola stella che raggiungerà il livello 100 ora per questo episodio andremo in esplorazione non so cosa ci sia in giro per il mondo della Pixelcraft però lo scopriremo assieme e quindi dobbiamo craftare un bel po' di Ultra Ball se no ragazzi con 30 non è che possiamo far più di tanto ah ma abbiamo abbiamo qui in fondo l'NPC io non ci ho fatto caso prima ragazzi ho girovagato sono andato pure a curare i Pokémon questo si chiama Lucix un nuovo Dungeon pra... uuuuuh attenzione un nuovo Dungeon Primal si nasconde nel mondo trova in 24 ore di tempo prima che venga eliminato dalla generazione ok credo che intenda la generazione del mondo della Pixelcraft però se il Dungeon del Groudon Primal si trovava comunque sull'isola del Groudon Primal là in fondo ora io dovrei andare verso questa direzione perché è dove noi tecnicamente dovremmo trovare il Dungeon del Caiogre nella sua forma Primal che quindi potrebbe essere la nostra sfida di oggi trovare sia il Dungeon che anche sfidarlo e provare a sbloccare questo Caiogre nella sua forma finale senza poi sfruttare la Master Ball che abbiamo trovato nello scorso episodio nella sfida con Steph però ragazzi questo è un punto a favore ma anche a sfavore perché vorrei che siate voi a decidere quale Pokémon catturare con la Master Ball e voi direte Marco ma perché a sfavore se fai scegliere noi beh ragazzi vorrei che il commento con più mi piace sia il commento che del Pokémon che io andrò a catturare che può essere benissimo anche uno Squirtle o un Pikachu siete voi a decidere quale sarà il prossimo Pokémon che io andrò a catturare con la Master Ball ma poi ci penseremo in un secondo momento non ho messo via la Mega Pietra di Charizard e di Blastoise di Venusaur quindi mi sa che già l'avevamo collezionata ma vediamo se la mia idea è che il Dungeon di Archeo Caiogre Primal si trova verso questa direzione qua scopriamola assieme muoviamoci qua abbiamo la Torre dell'Articuno e da questo lato non ho neanche avuto cioè neanche la scelta di andare a cercarlo ragazzi guardate su questo tetto qua cosa si palesa davanti ai nostri occhi ma questo è Primal Caiogre così subito al primo colpo ok vuol dire che questo qua è il Dungeon e che a questo punto non devo neanche mettermi a cercare perché l'abbiamo già trovato devo ah devo anche lutare mi sa perché questi qua sono degli alberi della Master Ball lo sono ragazzi e voglio prendere tutto quanto qualunque mossa mi vogliono dare Ball magari una Master Ball prima o poi potrebbe anche farci un attimino comodo la voglio prendere quindi prendiamo qua questa cos'è una mossa di tipo Coleottero e ci manca questo albero qua della Master Ball spero che ci sia un quarto un'altra mossa ok sto trovando tantissime mossa negli alberi della Master Ball ho notato che il drop della Master Ball stessa è bassissimo rispetto alle vecchie versioni della Pixel Craft o della Pixelmon vai di qua credo che sia l'ingresso però è cambiato però anche molto l'ingresso da questo lato ok e all'interno c'è solamente un boss leggendario da poter sfidare che ci potrebbe dare la possibilità di sbloccare quindi Kaiogre Primal o Arco Kaiogre beh se questa è la situazione ragazzi direi partiamo nella sfida abbiamo qua subito Kaiogre Shadow ok non me l'aspettavo per nulla in battaglia come spero che non abbia una mossa di tipo ghiaccio perché se no siamo fregati io comunque parto avvelenandolo oh ok è una mossa di tipo ghiaccio va bene così sei stato super efficace Kaiogre ma comunque sei avvelenato e su questo sono contento ora però non faccio lo stesso errore di prima cioè di mettere Rayquaza che potrebbe essere rischioso ma Tyranitar ragazzi ne ha preso veramente tante e ho fatto un grave errore ma comunque ho eliminato Kaiogre Tyranitar non è proprio la miglior mossa a utilizzare in questo caso ma quello che abbiamo qua davanti è un altro Pokémon Shadow che è il nostro Gyaridos che tanto nostro non è perché io ancora non ho trovato un Gyaridos ma guardate che figo nella sua forma Shadow è bello 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 se io andassi di Earthquake mi sta mega evolvendo per caso Gyaridos mi sta per caso mega evolvendo Gyaridos Shadow davanti gli occhi lo ha fatto lo ha fatto molto volentieri anche che figo beh caro M2 Shadow è arrivato il momento di entrare in campo e di farti sentire e fare un bel po' di danno non gli ha fatto un tubo ragazzi gli ha fatto pochissimo danno però magari con Psystrike qualcosa in più gli lo facciamo no zero Power Sphere invece gliene ha fatto veramente tanto ottimo che bello che è mega Gyaridos ragazzi è veramente una bella mega evoluzione peccato che però grazie alla mia prossima mossa tipo lotta lo andremo ad abbattere Arceus Arceus nella sua fusione nella sua nel suo tipo acqua shiny che però soffre lo stesso una mossa tipo lotta soffre lo stesso una mossa di tipo lotta comunque noi stiamo iniziando sempre di più a distruggere i dungeon di tipo leggendario vuol dire che tra un po' dovremo masterarli tutti e inizieranno quelli ultimate e quelli ragazzi saranno veramente difficili e tosti ve lo assicuro ma ci penseremo più avanti ora cerchiamo di abbattere questo Arceus che in realtà ci ha quasi distrutto lui il nostro Mewtwo Shadow che però ha raggiunto il livello 98 ok ma era già 98 e la base la bar dell'esperienza era vuota c'è stato un piccolo bug secondo me che però vabbè possiamo ribaltare la situazione dopo che ci hanno eliminato il nostro Mewtwo Shadow mettendo in campo il nostro mega Rayquaza shiny pokemon shiny Arceus contro Rayquaza shiny io ho preso un sacco di danno io ne sto facendo veramente poco questo Arceus è veramente problematico per noi ragazzi troppo forse mi elimina anche Rayquaza mi ha eliminato anche Rayquaza occhio beh metto in campo lui che è il tema della sfida perché io voglio sbloccare Primal Kyogre o chiamatelo Arceo Kyogre ragazzi quella è la vostra definizione migliore ditemela nei commenti voglio andare di Ice Beam vediamo se riusciamo a fargli qualche cosa danno pochissimo Ancient Power neanche ok lui non ci ha colpito ora io vado in dropompa a questo punto no ragazzi siamo fregati non ho niente da poter utilizzare contro questo Arceus che però è stato eliminato Greeninja da dove è uscito Greeninja mi conviene assolutamente riportare in vita almeno Eternatus perché se no dopo ho un problema avrei avuto solo Charizard che sarebbe stato inutile contro Greeninja anzi sarebbe stato shottato istantaneamente mi sta facendo tanto danno al Kyogre Greeninja noi gliel'abbiamo fatto un bel po' però eh quindi vado ancora con un Antronus Empower vediamo metà vita ottimo perfetto posso provare magari con Ice Beam e ghiacciarlo non ce l'ho fatta dannazione a lui ti prego voglio che sia questo l'ultimo Pokémon dell'avversario ti voglio a sbloccare il prima possibile Archeo Kyogre che in realtà ha appena entrato in campo che figata però se lui mette in campo Archeo Kyogre io non ho Pokémon dopo con cui difendermi ok siamo un attimo fregati mi conviene riportare in vita un po' tutti quanti i miei Pokémon più forti come per esempio Mewtwo e se riesco anche Raiquaza giusto per stare un po' più tranquilli a questo punto ho riportato un po' tutti quanti in vita riesco a ghiacciarlo non credo proprio ragazzi Ancient Power però un po' di danno glielo fa neanche lui mi sa che mi ha eliminato Kyogre senza il mi sa me lo ha eliminato ora il nostro obiettivo è avvelenarlo siamo riusciti ad avvelenarlo ok tranquilli vado anche di Eterna Beam già che ci sono così un po' di danno glielo faccio lui non sta utilizzando però mosse di tipo perché parlo cioè ragazzi non era nemmeno efficace ho utilizzato una mossa di tipo acqua qualunque ok questo Kyogre è devastante ma l'abbiamo eliminato oh mi sa che abbiamo vinto abbiamo vinto la battaglia Mewtwo ha raggiunto il livello 99 e abbiamo sbloccato il Blue Orb questo vuol dire solo una cosa che tramite il Blue Orb se noi lo consegniamo a Kyogre lo possiamo sbloccare nella sua archeoversione curiamolo istantaneamente voglio togliere tutta quanta la mia squadra dal pc e aspettare che sponi un bel boss qua davanti e non mi aspettavo uno così semplice da eliminare tramite il mio Primal Kyogre guardatelo qua che bello in questa sua forma incredibile a parte che comunque Camerupt ci ha sponato nella sua versione boss ultimate quindi a noi ci va solamente che bene però posso shottarlo così il primo colpo senza farvi vedere più di tanto il mio archeo Kyogre oh un altro Adamantorb che figata ragazzi questa nuova puntata della pixelcraft perché abbiamo sbloccato una nuova versione del mio piccolo Kyogre che ora non si vede perché non siamo in battaglia però anche Arco Kyogre è stato sbloccato noi campioncini ci possiamo fermare qua io vado in groppa al mio bellissimo Kyogre e voi lasciate un mi piace e ci vediamo in un prossimo video ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.